Endless love anticipazioni. Kemal chiede a Nihan una pausa, ma per lei non è facile accettare la loro separazione. Nel corso di questo loro incontro, i due vengono fotografati da un giornalista che vuole rendere pubblica la loro relazione clandestina. Per fortuna, Kemal lo intercetta in tempo e glielo impedisce. Ma la storia non finisce qui. Assu si mette subito in contatto con il reporter e gli propone un accordo. Nel frattempo, Emir parla con Tufan, che gli dice che non tornerà a lavorare per lui, finché non sarà soddisfatto della sua onestà. Grazie alla sua astuzia, Tufan riuscirà a riconquistare la fiducia di Emir. Ma cosa farà Emir una volta che avrà riacquistato la fiducia di Tufan? Banu è molto gelosa delle attenzioni che Tariq sembra dare a Pelin. Lui però nega qualsiasi interesse, anche se è ancora furioso per il tradimento di Banu. Nihan intanto chiede a Leila di consegnare una lettera a Kemal. E proprio in quel momento arriva il giorno dell'Assemblea Generale del CDA della Cosquoglu Holding. Qui Kemal lascia tutti di stucco con un annuncio. Presto inizieranno i lavori per rendere di nuovo operativa la centrale termoelettrica grazie al ritrovamento di una vecchia miniera. Ma cosa c'è dietro questa scoperta? Zeynep, sotto gli occhi di Ozan, finge di avere forti nausee, lasciando credere al marito di essere incinta. La giovane si procura persino un test di gravidanza positivo di un'amica. Ozan è felicissimo, ma Zeynep lo ricatta. Porterà avanti la gravidanza solo se lui le racconterà tutti i segreti della sua famiglia. Nihan è tornata ufficialmente a casa del marito, ma continua a vedere Kemal di nascosto. Questa volta si incontrano nella casa vuota dei genitori di Yasemin. La Sezin chiede al soidere di passare la notte insieme, e Gokhan immortala il loro incontro segreto. Asu ordina di pubblicare le foto, ma Tufan non è d'accordo. Le foto incriminanti di Kemal e Nihan sulla spiaggia vengono comunque pubblicate, e sembra proprio un incontro romantico clandestino. Emir lo scopre, e riesce a prenotare la stessa stanza d'hotel dove Nihan si sarebbe vista con l'ingegnere. Poi ordina a Tariq di portare la Sezin da lui. Kemal, appreso che il fratello sta portando Nihan in quell'albergo, si reca sul posto con un doppio intento. Affrontare Emir e proteggere Nihan. Ma cosa accadrà quando si troveranno faccia a faccia? Nel confronto con Emir, Nihan ha un brutto incidente e lotta tra la vita e la morte. Ozan, sconvolto, racconta a Zeynep tutti i suoi segreti, compreso l'omicidio che avrebbe commesso, e come Emir lo abbia salvato dal carcere in cambio del matrimonio con Nihan. Zeynep è sotto shock, e il marito la supplica di non lasciarlo. Emir viene arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, e incarica Tufan di presidiare l'ospedale dove è ricoverata Nihan per tenere Kemal lontano. Intanto, Galip cerca disperatamente Narsen, senza successo. Kemal l'ha nascosta bene. Guardando una foto di Narsen col figlio, Kemal si rende conto di averla già vista. Nel frattempo, Zeynep ruba il passaporto di Nihan e prenota due biglietti di sola andata sulla nave per lei e Kemal. Galip, preoccupato per Emir, teme che Kemal stia tramando qualcosa di diabolico. Tufan avvisa Kemal che Galip sta indagando su di lui. Kemal scopre che Tufan è il figlio di Narsen, e Tufan si sente tradito da chi sapeva della madre. Ma ora vi chiedo, secondo voi, quali saranno le prossime mosse di Kemal? Scrivetelo nei commenti. Cosa succederà ora? Riusciranno Kemal e Nihan a fuggire insieme o saranno fermati dai loro nemici? Lo scopriremo nel prossimo video.